La, 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 la. Passiamo alle notizie del centro di servizio per il volontariato di Napoli. Torna il Festival del Cinema dei Diritti Umani. L'evento, realizzato grazie al lavoro volontario di decine di associazioni napoletane, si terrà tra Napoli e provincia dall'8 al 19 novembre. Info su www.csvnapoli.it CSV Napoli avvia il percorso di progettazione partecipata per il programma di attività 2012 invia le tue proposte e i tuoi suggerimenti su www.csvnapoli.it dai un volto agli invisibili, regalaci un'intervista è questo lo slogan della prima ricerca a censimento sulle persone senza dimora in Italia scopri come offrire il tuo contributo su www.csvnapoli.it CSV Napoli accompagna le associazioni di volontariato nel percorso di progettazione relativo al bando Il Mosaico della Solidarietà registrati sulla piattaforma di formazione a distanza vai su www.csvnapoli.it aperte le iscrizioni a due nuovi corsi di formazione promossi da CSV Napoli si tratta di progettazione europea a secondo livello e sicurezza sul lavoro modulo B7